Buonasera, intanto faccio gli onori di casa e saluto i primi arrivati. Ciao Gianluca, ciao Ivan, Fabio, Massimiliano, cominciano a crescere di numero. Comunque intanto, prima di iniziare, uso questo momento di attesa iniziale per rivolgermi ai partecipanti. E dirvi che io tra poco lascerò la parola ai nostri relatori, che sono qui per portarvi dei contenuti molto interessanti, ma anche per interagire con voi, quindi rispondere assolutamente alle domande che avrete da proporgli. E potete farlo nella sezione Q&A o domanda risposta nel caso in cui abbiate Zoom in italiano, in modo che rimangano, come dire, molto ordinate e che poi possiamo in un secondo momento, tipicamente nella parte finale di questo incontro, andare a processarle una ad una. Vi chiedo ancora un minutino di pazienza perché avvio la diretta e poi possiamo partire. La diretta è sempre un lavoro di dettaglio e accuratezza che non sono, come dire, proprio le mie doti fondanti, ma ce la metterò tutta e ce la faremo. Eccoci qua. Siamo adesso in diretta, quindi io ricordo ai partecipanti che possono interagire con i relatori nella sezione Q&A, nel caso in cui si trovassero su Zoom, oppure semplicemente scrivendoli commenti nel caso in cui ci seguissero dall'Internin. Nella parte finale poi della presentazione andremo a rispondere un po' alle domande, alle curiosità che arriveranno. A questo punto io mi chietto e lascio la parola a Marco Marano e ai colleghi di NTT Data che ci guideranno in questo viaggio. Buon ascolto. Buonasera a tutti. Spero che mi sentiate correttamente. Oggi vi faremo vedere due demo, la prima delle quali riguarda una soluzione multicloud open standard. Andiamo a vedere chi saranno i presentatori. La prima demo sarà presentata da me, che sono Marco Marano, e da Matteo Candido. Siamo entrambi due cloud architect e lavoriamo per NTT Data. Le nostre passioni vanno dal cloud privato, quindi Kubernetes e Zimilia, e ultimamente anche il cloud pubblico, e in generale tutte le soluzioni hybrid cloud e multicloud di cui ci stiamo occupando negli ultimi anni. Andiamo a dare un po' di contesto per questa demo. Negli ultimi anni, come avete saputo, quasi tutti sicuramente avete sentito, si parla moltissimo di cloud e di adozione del cloud. Specialmente le grandi aziende sono costrette, o comunque hanno volontà per motivi diversi di costo, di convenienza, eccetera, di competitività, di spostare almeno una parte dei loro asset sul cloud. Dico una parte perché, spesso e volentieri, specialmente all'inizio, le aziende tendono a spostare qualcosa sul cloud e tenere qualcos'altro, come si dice, in casa, on-premises. Questa situazione crea quello che viene definito un cloud ibrido. Quindi alcune applicazioni, magari quelle più vecchie o quelle più importanti, si troveranno sul cloud privato, e quelle più innovative invece si troveranno sul cloud pubblico. Inoltre, il cloud pubblico potrebbe non essere soltanto uno, ma potrebbe essere un insieme di cloud pubblici, perché le aziende molto grandi potrebbero avere, anzi, probabilmente avranno, più subscription per i diversi cloud provider, per esempio Amazon, Google o Microsoft. Questo chiaramente complica le cose in termini di gestione, perché bisogna gestire workload eterogenei, su cloud eterogenei, in parte privati e in parte pubblici. Ma la complicazione non finisce qui. Le applicazioni cosiddette innovative, spesso e volentieri, negli ultimi anni, vengono sviluppati con paradigmi agili, detti, per esempio, stili architetturali, detti a microservizi. Quindi, invece di avere un'applicazione che è costituita da 4 o 5 grossi servizi su strati diversi che comunicano fra loro, sia l'applicazione è un insieme di una miriade di microservizi, piccoli e concentrati su un'unica funzionalità, che parlano fra loro con meccanismi standard. Chiaramente questo è il fatto di avere cloud diversi e sistemi differenti, pone molti problemi in termini di gestione della cosa. Innanzitutto perché bisogna garantire una comunicazione sicura tra questi servizi. E la sicurezza non deve poter dipendere dal singolo sviluppatore che ha sviluppato il pezzettino software. Poi perché centinaia o migliaia di microservizi devono poter essere osservati in modo efficiente dall'esterno, per vedere che tutto funzioni correttamente, che non ci siano problemi di performance, che non ci siano problemi di affidabilità. E questo diventa molto difficile, se non impossibile, in presenza di tanti cloud differenti. Inoltre, tutti questi servizi devono poter essere deployabili su qualsiasi di questi cloud, senza doverli riscrivere di volta in volta. Più noi ci leghiamo a un singolo cloud come tecnologia, più avremo lavoro da fare quando questi servizi dovranno essere spostati su un altro cloud, su un'altra tecnologia. Inoltre, per quanto questi servizi innovativi stiano prendendo piede, essi devono convivere e dovranno convivere per alcuni anni con i servizi tradizionali cosiddetti, quindi quelli che girano su web server, application server, o database su macchine virtuali. E il tutto dovrebbe essere trasparente. Io non devo gestire i microservizi in un modo e le macchine virtuali in un altro, perché dovrei avere due gestioni separate. In tutto ciò, cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di creare un centro di controllo unico che permetta di controllare tutti questi asset differenti, su cloud differenti, utilizzando solo tecnologie open standard, che vengono, diciamo, mutuate dal più grande supermercato virtuale delle tecnologie cloud, che è la Cloud Native Computing Foundation, una fondazione che raccoglie proprio tutti questi progetti più interessanti, più vitali, quelli con la community migliore, e li mette a disposizione di tutti. Questo centro di controllo dovrà supportare i linguaggi e i framework più comuni, perché non tutti i servizi vengono scritti nello stesso linguaggio. Dovrà essere flessibile e sensibile e dovrà essere indipendente dal cloud usato o dalla combinazione di cloud che l'azienda che adotterà il nostro centro di controllo deciderà di utilizzare. Tutto pubblico, tutto privato o una combinazione. Dovrà garantire, come dicevamo, sicurezza per contratto, non dipendente dalla singola implementazione e dovrà avere un insieme di set di tool di observability che permettano di osservare qualunque componente del nostro insieme di servizi dal punto di vista delle performance, delle metriche, dei log e del tracciamento. Seguendo soprattutto gli open standard, quindi gli standard aperti, messi a disposizione dalla community e non prodotti proprietari che determinano un vendor lock-in di cui poi è difficile liberarsi. Questo è il landscape di cui vi parlavo. Come vedete, è molto articolato e diviso in categorie e da qui è possibile vedere i progetti più promettenti e viene continuamente aggiornato. Quindi è possibile scegliere per le proprie esigenze i prodotti migliori. A partire da questo abbiamo realizzato la nostra soluzione che al momento abbiamo chiamato Sobeck. È un centro di controllo che è basato principalmente dal punto di vista tecnologico su Kubernetes che, come molti di voi sapranno, è l'orchestratore per workload containerizzati standard a livello mondiale adottato da tutte le piazzaforme cloud. È Istio, che è un sovrastrato di Kubernetes che permette di vedere un insieme di servizi deciso da noi come un'unica rete di servizi indipendentemente da dove questi siano deployati, se su uno stesso cluster Kubernetes, su più cluster o addirittura su delle macchine virtuali che non fanno parte del cluster, come vedremo. A partire da questa accoppiata vincente abbiamo costruito un'interfaccia grafica molto efficiente e semplificata che permetta di vedere la nostra rete di servizi, di decidere quali servizi possono comunicare fra loro e in che modalità, creando graficamente delle pollici di comunicazione e salvandole. E di avere un'occhiata anche di una rete molto complessa in una sola schermata e di vedere diciamo in una sola schermata tutto quello che sta succedendo e se ci sono problemi. E poi in caso si trovino dei problemi un set completo di strumenti di controllo e di osservabilità che permettano di trovare il problema, analizzarlo e poi risolverlo. Per fare questo abbiamo esteso le potenzialità dell'interfaccia grafica standard di Istio che si chiama Chiali. Queste sono solo alcune delle cose che poi vedrete nella demo quindi abbiamo uno strumento grafico avanzato sicurezza by design con l'utilizzo di MTLS su tutti i servizi per la comunicazione fra tutti i servizi che fanno parte della nostra mesh e un set completo di strumenti di observability. Andiamo al dunque. Per dimostrare le potenzialità dello strumento che dimostreremo poi nella demo abbiamo predisposto un'applicazione di demo. Questa applicazione è una semplice applicazione a microservizi che rappresenta un simulatore di traffico di richieste verso dei portali di viaggio per prenotare dei viaggi verso delle agenzie di viaggio. i microservizi componenti la demo sono stati suddivisi in dei cluster Kubernetes e deployati sui vari cloud provider più famosi. Quindi il simulatore è deployato su Amazon e i portali di viaggio sono deployati su Google Cloud mentre le agenzie di viaggio e altri servizi sono deployati su Azure. In più abbiamo diciamo prelevato un servizio containerizzato lo abbiamo deployato come una normale macchina virtuale e l'abbiamo deployato su uno dei cloud provider per far capire che noi possiamo controllare questo servizio così come tutti gli altri. Il centro di controllo può essere installato o sulla rete interna diciamo del potenziale cliente di questa soluzione o può essere installato anche su uno dei cloud provider scelti quindi c'è la massima flessibilità di configurazione a seconda delle possibilità che avrà chi adotta questa soluzione. vista questa situazione adesso andiamo a vedere praticamente come funziona il nostro centro di controllo quindi interrompo la condivisione e la lascio a Matteo che vi mostrerà direttamente la demo ciao a tutti allora andiamo a vedere quello che ha praticamente quello che ha appena descritto Marco questo è il portale del simulatore quindi dove la sorgente che andrà a stimolare tutti i portali di viaggio i tre portali configurati tramite questo portale è possibile andare a configurare alcuni parametri come il numero di richieste le tipologie e quant'altro quindi stimolare in maniera diversa i microservizi in modo tale da vedere come si comporta più un portale rispetto a un altro e cosa questo comporta a livello applicativo però diciamo la parte più interessante questa applicazione come avete visto sta girando su più cloud contemporaneamente quindi anche se vedete un'interfaccia unica è una collezione di servizi che girano in modo distribuito sì è quello che è possibile vedere dal portale dall'applicativo è possibile vedere come i vari servizi sono distribuiti sui vari cloud service provider ad esempio come diceva Marco il servizio control è su EKS i portali sono su GKE e le varie agenzie per le viaggi assicurazioni e quant'altro sono su AKS mentre il servizio che abbiamo tirato fuori che prima era un microservizio che girava in Kubernetes quello di Discounter al momento sta girando su una macchina virtuale quindi al momento stiamo trattando tutti questi servizi che sono distribuiti su più cluster anche geograficamente distribuiti perché alcuni sono negli Stati Uniti altri sono in Europa noi li stiamo gestendo e visualizzando come se fossero un unico cluster è possibile vedere da questa visualizzazione come il traffico fluisca da questo punto di ingresso che altro non è che è il bocchettone diciamo di ingresso verso tutti verso i cluster quindi dove arrivano le richieste dal browser verso il servizio del simulatore e come dal simulatore le richieste con questi pallini bianchi si muovono in maniera diciamo si muovono verso tutti i vari servizi è possibile vedere come fluiscono è possibile vedere eventualmente alcune informazioni come ad esempio il numero di richieste che ogni servizio sta gestendo ed è possibile vedere se eventualmente ci sono problemi sui vari nelle chiamate tra i vari servizi ad esempio selezionando un ramo è possibile vedere che al momento anche dato dal colore quindi graficamente è possibile vedere che tutto sta funzionando correttamente non ci sono stati errori si possono vedere anche il tempo medio delle richieste e altre informazioni utili per una fase di troubleshooting oltre a questo è possibile vedere anche che al momento tutti i servizi stanno lavorando in MTLS anche se in realtà l'applicativo non è scritto per usare connessioni sicure con HTTPS o SSL o altre tipologie di connessioni sicure ma la sicurezza è garantita a livello infrastrutturale nel senso lo sviluppatore non si deve preoccupare dei certificati del rinnovo dei certificati delle varie compatibilità e quant'altro ma questo è tutto fatto a livello infrastrutturale ed è Istio che si occupa appunto di questo quindi anche nel caso in cui volessimo aggiornare la versione di sicurezza dell'MTLS o i certificati o altro tutto questo potrà essere fatto a livello centralizzato senza coinvolgere chi sviluppa o altre linee di operation dell'azienda diciamo quindi c'è un controllo molto più semplice da questo punto di vista sì e questo leva diciamo toglie molti pensieri agli sviluppatori che si possono concentrare sul far funzionare il loro software al meglio possibile senza andare a diciamo perdersi attraverso le questioni di sicurezza che vengono appunto demandate all'infrastruttura oltre questo è possibile vedere anche altre informazioni cioè andando a vedere il servizio è possibile vedere appunto quali pacchetti sono in ingresso quali sono in uscita ed è possibile cosa anche molto importante la gestione del tracing quindi è possibile andare a vedere quali sono le span quindi quali servizi sono coinvolti in una certa comunicazione e oltre a questo quindi è possibile trovare usando questo appunto il tracing distribuito è possibile trovare molto facilmente anche colli di bottiglia nella comunicazione questo è molto utile anche in fase di troubleshoot cioè se un certo servizio impiega tanto tempo a rispondere è possibile fare questa valutazione in un unico punto cosa più importante scusa Marco vai mettiamo in evidenza anche che questa cosa sarebbe assolutamente impossibile senza questo strumento perché su Google Cloud per esempio avremmo una console di amministrazione che ci fa vedere il tracing in uscita e su AKS avremmo una console che ci fa vedere il tracing in ingresso ma non potremmo correlare le due cose quindi se c'è un servizio che perde i pacchetti noi non sapremmo dov'è che si blocca la comunicazione questo è l'unico modo per avere una comunicazione integrata tra tutti i service provider che abbiamo esatto sì sì è vero oltre a questo anche il tracing come parlava prima Marco degli open standard anche il tracing in realtà è sempre garantito a livello di infrastruttura non viene fatto a livello applicativo quindi bisogna installare quindi ci sta a installare agent o altri altre componenti aggiuntive che poi è possibile anche farlo per aumentare il livello di dettaglio del tracing però diciamo una prima analisi può bastare questo quindi non c'è non si va nemmeno a toccare il codice quindi è tutto sempre a livello infrastrutturale ma oltre a questo diciamo uno dei grossi vantaggi è anche la gestione centralizzata delle policy supponiamo di non essere in questa situazione di avere i classi separati con le applicazioni distribuite bisogna andare sulle singole piattaforme in caso di eventualmente di un data breach o di altre tipologie di problemi bisognerebbe andare su ogni piattaforma su ogni console e conoscendo le diverse modalità di configurazione applicare magari firewall o spegnere macchine o fare determinate operazioni in questo caso è possibile con l'utilizzo di questo policy editor grafico è possibile ad esempio andare supponiamo ci sia stata una data breach quindi vogliamo vogliamo in pratica bloccare tutte le comunicazioni e evitare che altre persone o altri dati possano essere presi quindi quello che facciamo è applicare un deny all su quelli che sono i namespace applicativi coinvolti andando a creare la nostra policy di deny all bene andando a creare la nostra policy di deny all in pratica noi andiamo a bloccare andiamo a bloccare tutto il traffico creando tutto il bloccando tutto il traffico quello che succede è che immediatamente noi non abbiamo più accesso al portale e a nessun altro servizio dall'esterno e come si inizia a vedere dal grafico le frecce iniziano a cambiare colore questo significa che la connessione sta degradando quindi iniziano a esserci degli errori e essendoci degli errori vuol dire che noi abbiamo bloccato tutto quindi nessuno può più utilizzare il servizio né dall'esterno né dall'interno in questo modo si possono fare delle verifiche delle analisi verificare quello che è successo e una volta che infatti vedete anche questo è stato bloccato quindi a tempo zero le policy sono state applicate su tutti i cluster cioè dal control plane sono state applicate su tutti i cluster su tutti i servizi tutti i cluster senza alcuna conoscenza delle varie console dei vari service provider è in tempo quasi a tempo zero quindi in questo modo noi abbiamo protetto il nostro applicativo quello che possiamo fare ad esempio è andare a cancellare a disabilitare un'altra possibilità che abbiamo aggiunto è quella di disabilitare le policy cioè tutto è tornato a posto noi andiamo a disabilitare le policy disabilitando le policy tutto piano piano torna alla normalità quindi abbiamo verificato che è tutto a posto e piano piano il nostro servizio riprende a funzionare ok ad esempio già il simulatore è già in funzione e piano piano anche i grafici all'interno anche il grafo inizierà a ricomporsi perché ci mette un po' più di tempo perché comunque dal control plane devono essere andati devono essere catturati tutti i dati da tutti i vari cluster quindi c'è un certo delay però l'applicazione comunque è immediata come vedete sta ritornando tutto a funzionare altra cosa molto importante è che ad esempio al momento abbiamo detto che c'è l'MTLS abilitato tra le comunicazioni ma non è abilitato in maniera stricte cioè è possibile che qualsiasi entità al di fuori della mesh cioè al di fuori di questo gruppo ristretto di servizi possa entrare in contatto con i nostri con i nostri servizi sia dall'interno del cluster che dall'esterno nel caso specifico ad esempio di questo servizio che gira su una macchina virtuale io posso invocare dal mio browser il servizio che sta girando sulla macchina virtuale e lui mi risponde questa cosa può non andare bene allora cosa si fa si va ad abilitare una una policy andando a dire che vogliamo una connessione di tipo MTLS di tipo strict connessione MTLS di tipo strict tra tutti questi namespace quindi tutti gli applicativi che sono all'interno di quel namespace devono parlare in maniera in MTLS quindi la mettiamo di tipo strict la policy è automaticamente applicata come detto prima a tutte le entità del cluster quindi senza alcun problema viene applicato automaticamente a tutti gli envoi che sono quei componenti che affiancano ogni servizio tutto l'applicativo continua a funzionare come prima cioè noi non notiamo differenze però ad esempio ritornando sulla macchina virtuale noi non abbiamo più la possibilità di contattarla dall'esterno quindi la macchina al momento è isolata perché noi non siamo all'interno della mesh non facciamo parte appunto della mesh non abbiamo i certificati per poter parlare e quindi il servizio è attualmente isolato diciamo questa cosa molto potente questo meccanismo sì esatto potente e importante perché consente di gestire la sicurezza a livello infrastrutturale mirata perché noi ora abbiamo fatto ad esempio nel caso dell'MTLS abbiamo trovato l'MTLS nel caso dell'Adenai O l'abbiamo fatto un ADNai di tutto però oltre a questo è possibile anche andare a lavorare con regole più mirate effettuare un bilanciare il carico su servizi perché hanno se noi rilasciamo una nuova versione di un servizio ad esempio bilanciare il carico in modo tale da fare andare una certa percentuale sul nuovo sul nuovo servizio fare andare sul nuovo servizio ad esempio solo una certa certe connessioni che hanno determinati leader ok e quindi questo lo facciamo però tutto da un'unica console ed è tutto questo qui è applicato in maniera automatica immediata su tutto quanto il cluster su tutto quanto la mesh oltre a questo se non dovesse poi diciamo bastare quanto visto con questi prodotti comunque c'è sempre la possibilità di andare a utilizzare un prodotto come ad esempio Jaeger dove è possibile vedere nel dettaglio quelle che sono il tracing distribuito andare a vedere span per span ad esempio capire anche con i tempi e con tutto quanto capire qual è il sistema che sta generando il collo di bottiglia questo qui è fatto così come altri prodotti che ora andiamo a vedere è tutto fatto con prodotti open source e open standard quindi nel caso in cui il tracing distribuito non si volesse controllare con Jaeger si può controllare qui dalla console ma volendo il cliente ha bisogno di un altro tool si può utilizzare un altro tool che rispecchi che sia aderente all'open standard ed è possibile farlo quindi c'è intercambiabilità di prodotti noi non abbiamo non stiamo utilizzando prodotti specifici dei cloud service provider altra cosa è sempre possibile vedere ciò che si vede in questa console quindi queste informazioni qui queste altre informazioni che riguardano le latenze e quant'altro è possibile vederle anche dalla dashboard di Grafana che è un altro prodotto sempre open source e open standard che consente di visualizzare le metriche collezionate con Prometheus è possibile vedere ad esempio andando a vedere un po' più nel dettaglio con un'altra diciamo un'altra ottica servizio per servizio in questo caso in questo servizio Cars V1 che è uno dei servizi che girano è possibile vedere quante richieste sta gestendo quante sono andate a buon fine e capire da chi riceve informazioni e verso chi sta andando ok quindi è possibile vedere proprio l'intero flusso ma in un'ottica con un'ottica diversa questo è molto utile anche in fase di debug per vedere anche per la possibilità di inserire degli allarmi se ci dovesse essere dei problemi si possono creare degli allarmi e si possono inviare lo stesso anche quest'altro dashboard ha un'altra vista rispetto al servizio anche in questo caso vediamo chi lo sta chiamando dove questo servizio sta andando quante chiamate e così via tutto questo naturalmente giusto per ribadirlo è sempre che tutti i prodotti appunto open standard intercambiabili e integrabili con tutti quanti gli altri prodotti che rispettano questo standard per quanto riguarda la panoramica che volevo mostrare è tutto quello che volevo mostrarvi in questo poco tempo è questo anche se ci sarebbero tante altre cose da poter vedere però diciamo quando si parla di cloud perché noi al momento stiamo parlando soprattutto di cloud si pensa che cloud sia resilienza sia capacità di rispondere a determinati fault e così via questo è vero in parte perché diciamo i colleghi che seguiranno andranno a dimostrare che sì è vero che l'intrastruttura è resiliente il cloud è resiliente però con gli strumenti giusti è possibile vedere anche che le applicazioni che girano sul cloud spesso e volentieri non sono così resilienti e che quando si scopre ormai è troppo tardi e il danno è stato già fatto quindi lascio lascerei la parola a Luigi e Davide per la loro presentazione grazie Matteo allora vi condivido lo schermo ditemi se e quando vedete la presentazione avete tutto schermo giusto? ancora no ancora no? riprovo vai ok ok ora sì sì è tutto schermo? sì 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 ok allora buonasera a tutti io sono Luigi Pitonti e insieme al mio collega Davide Lienert quest'oggi vi parleremo di Chaos Engineering siamo entrambi dei Cloud Engineer e lavoriamo presso NTT Data e quindi queste che vedete sulla slide sono dei punti che andremo a trattare faremo dunque un'introduzione al Chaos Engineering per poi passare a una demo live il Chaos Engineering è la disciplina che si occupa di introdurre volutamente degli errori su un sistema software al fine di osservare come esso reagisce questo insieme di tecniche è stato ideato da un colosso come Netflix per testare i suoi ambienti direttamente in produzione per poi fornire il prodotto alla community il livello di confidenza che ha raggiunto Netflix grazie al Chaos Engineering è tale da condurre esperimenti durante il lancio di serie tv di notevole seguito come la casa di carta 3 inoltre il Chaos Engineering applicabile su qualsiasi provider è anche on-prem può essere usato per una serie di motivi ad esempio identificare eventuali debolezze prima che esse si manifestino e causino danni ingenti oppure per testare la robustezza di un sistema per sviluppare un piano di disaster recovery quanto più efficiente possibile realizzando in tal modo un sistema affidabile per gestire fallimenti di servizio o guasti delle macchine nostre solitamente queste debolezze sono presenti a causa di false assunzioni che inconsciamente facciamo ad esempio siamo portati a pensare di avere a disposizione una larghezza di banda illimitata che la latenza di rete magari sia uguale a zero oppure che ci sia un unico amministratore di sistema si ha bisogno del Chaos Engineering per evitare di impostare in maniera impropria delle politiche di fallback quando un servizio non è disponibile per evitare sequenze infinite di tentativi di connessione dovute a time out impostati impostati male per evitare fallimenti a cascata quando un servizio va in crash e soprattutto per evitare interruzioni del servizio qualora una componente ricevesse più traffico rispetto a quello per la quale la componente stessa è stata progettata i principi che gli esperimenti dovrebbero eseguire sono essenzialmente tre c'è il planning ovvero che partendo da una condizione di stabilità iniziale dobbiamo chiederci cos'è che potrebbe andare storto containing ossia che i primi test devono essere quanto più piccoli possibili quindi bisogna mantenere il loro raggio di azione limitato e poi scaling una volta che abbiamo preso confidenza con l'attuale raggio di azione è possibile scalare gli esperimenti fino a fargli ricoprire l'intera l'intera applicazione per capire quando si deve stoppare oppure aumentare il raggio di un esperimento si deve avere la possibilità di misurare il sistema è molto importante quindi che in un ambiente di produzione vi sia un sistema che collezioni metriche e li mostri in maniera chiara così da monitorare l'infrastruttura costantemente nel contesto del chaos engineering è bene scegliere poche metriche ben definite in modo da monitorarle durante gli esperimenti identificando poi una soglia che la metrica non dovrebbe superare si può capire se ci può spingere di più oppure se è il caso di fermarsi e cercare di incrementare le prestazioni del sistema se dopo gli esperimenti le cose dovessero andare male si deve essere in grado di portare il sistema al suo stato iniziale quanto più velocemente possibile quindi è fondamentale avere un recovery plan con il quale effettuare una rollback spesso come diceva prima Matteo si è portati a pensare che installando un'applicazione su un cloud provider si risolvano tutti i problemi legati alla resilienza questo però non è vero cloud non vuol dire automaticamente resilienza ad esempio il cloud di per sé non ha il controllo di richieste di risorse dell'applicazione la stessa applicazione poi non riesce a scalare se non è stata settata un'appropriata configurazione dell'ambiente e dell'infrastruttura sottostante e poi la velocità alla quale l'applicazione si troverà in uno stato di up running non dipende dal cloud provider su cui è ospitata ma da come sono state progettate le sue componenti interne per quanto riguarda l'ambiente che abbiamo utilizzato per la nostra demo descriverò brevemente le risorse che saranno citate nel corso della presentazione allora un nodo worker è una macchina sia essa fisica o virtuale che ospita i microservizi che costituiscono l'applicazione il nodo fa parte di un cluster il quale è costituito da altri nodi worker e nodi master che ospitano il control plane un pod invece è la più piccola unità esecutiva di Kubernetes e in capsula uno o più microservizi ed è di natura effimera una CRD invece è la definizione di una risorsa personalizzata che estende le risorse già preesistenti e standard di Kubernetes quando poi parleremo di node level attack intenderemo un test condotto direttamente su uno o più nodi per condurre tale test può essere utilizzato un pod ausiliario il pod level up che invece è un test su dei pod specifici i cui effetti sono comunque visibili sui nodi su cui stanno girando i nostri i nostri pod sotto attacco per applicare il chaos engineering è stato effettuato dapprima uno studio sui vari tool presenti nel CNCF che è appunto il cloud native compute foundation citato prima da Marco una prima cernita è stata fatta andando a escludere Grimlin e Stdbit in quanto non si tratta di software open source abbiamo poi successivamente fatto una valutazione dei pro e dei contro per ogni software rimanente tenendo in considerazione l'essere user friendly la quantità di esperimenti possibili il numero di contributors la chiarezza della documentazione perché anche questo è importante e soprattutto la data delle ultime release perché era per verificare quanto la community sia effettivamente attiva la community che sta dietro dal progetto sia effettivamente attiva incroggiando tutti questi dati poi la scelta è ricaduta su l'ITMUS l'ITMUS fondamentalmente ha cinque componenti principali definito utilizzando le CRD c'è Chaos Engine che rappresenta l'ambiente in cui i Chaos Experiment sono lanciati il Chaos Experiment che è il componente base che specifica i test da condurre il Chaos Schedule è il componente che schedula le azioni il Chaos Result è il componente che gestisce i risultati del test e infine c'è il l'ITMUS Probe che è un componente aggiuntivo che esegue dei check predefiniti all'interno degli ambienti di Chaos Engine gli esperimenti possono essere codificati tramite dei file YAML che sono molto human readable si fa utilizzo delle label per indicare quali sono i pod sui quali condurre gli esperimenti e si inserisce poi la lista degli esperimenti che si vogliono effettuare per ogni esperimento poi è possibile settare una serie di parametri che ovviamente varierà di esperimento in esperimento l'applicazione su cui verranno effettuati i test è una classica applicazione a microservizi in cui viene simulato un sito di e-commerce ci sono i pod che gestiscono la pagina web ed altri pod che invece si occupano degli orti dei pagamenti e dell'espedizione in particolare è presente un pod che simula un carico utente e il pod di RabbitMQ per gestire le code il tutto è poi monitorato tramite Prometheus e Grafana anche essi sono due tool open source per il monitoraggio l'applicazione è stata deployata su due cluster GKI che è il cluster Kubernetes gestito da Google e poi su un cluster abbiamo messo la versione standard dell'applicazione su un altro cluster invece abbiamo installato una versione andando a seguire una versione dell'applicazione andando a seguire tutte le best practices suggerite da Kubernetes l'architettura dell'applicazione è quella che si vede adesso sullo schermo e si vede come tutte le varie componenti siano interconnesse tra di loro e come esse siano anche scritte in linguaggi di programmazione differenti ad esempio vediamo che c'è Java e c'è anche Go per ogni versione verranno lanciati degli esperimenti sia di tipo node level attack che di tipo pod level attack tali esperimenti andranno a impattare sulla CPU sulla rete sulla memoria e sui rischi i risultati si rifletteranno sulle metriche che poi Grafana mostrerà a video quindi lascio la parola e lo schermo a Davide che ci farà vedere la demo quindi metterà in pratica tutto ciò che vi ho raccontato finora grazie ciao a tutti ok hai lasciato la condivisione quindi condivido io ditemi se riuscite a vedere lo schermo ok allora come ha detto già Luigi abbiamo abbiamo strutturato l'applicazione su due cluster deployati su GKE ovvero la versione managed di Kubernetes di Google abbiamo optato per Google semplicemente per questione di comunità però in realtà anche per il discorso di approccio al multi cloud avremmo potuto deployarlo su qualsiasi dei cloud provider vi faccio vedere brevemente l'applicazione come strutturata perché come ha detto Luigi abbiamo due cluster uno Chaos Week che abbiamo chiamato così dove è deployato la stessa applicazione nella versione non resiliente quindi dove non vengono applicate tutte le best practices offerte da cloud provider o meglio dal mondo cloud in generale come metodologia è Chaos Resilient sempre su GKE per un cluster diverso dove invece vengono applicate tutte queste best practices come potete vedere i namespace sono parecchi quelli più interessanti sono Sockshop dove si possono vedere tutti i vari microservizi quindi come diceva Luigi ci sono il RabbitMQ che è il servizio che si occupa di gestire le code di messaggi tra i vari altri microservizi poi ci sono il database per gli ordini e il microservizio il back-end per gli ordini il catalogo il carrello gli utenti insomma un microservizio per ognuna delle componenti che vi ho fatto vedere prima Luigi e l'altro elemento interessante è il load test perché qui definiamo un servizio che simula carico utente ovviamente la stessa cosa è anche sulla versione Chaos Resilient come stack di monitoraggio che come ha detto prima Luigi è uno degli elementi fondamentali per approcciarsi alla metodologia alla disciplina del Chaos Engineering abbiamo scelto di usare Prometheus e Grafana sempre in ottica di open standard e open source avremmo potuto anche optare per Dynatrace oppure Datadog o qualsiasi altro servizio ma sempre appunto per rimanere fedeli diciamo all'approccio open standard dove non ci quindi colleghiamo ad un singolo vendor abbiamo optato per Prometheus e Grafana sempre in ottica multicloud abbiamo però federato questi i due Prometheus quindi c'è un server Prometheus su ognuno dei cluster però c'è una sulla versione Resilient l'abbiamo definita come control plane che quindi va a fare scraping anche sulle metriche del cluster definito weak qua potete vedere delle dashboard che definiscono che mostrano le informazioni relative ai nodi o a tutti i singoli pod che sono deployati sul cluster e come vedete qua possiamo scegliere il cluster quindi possiamo switchare tra Resilient e weak e si vedono le informazioni relative all'uno o all'altro cluster quindi già in questo abbiamo un approccio multicloud nella visualizzazione di metriche e di dashboard relative a due cluster che in questo caso sono entrambi su google ma sarebbero potuti essere ovunque quest'altra dashboard invece è un mostra delle informazioni specifiche sui singoli microservizi quindi sugli ordini sui cataloghi sui pagamenti e in particolare la parte interessante è sul front end dove come potete vedere questa applicazione a regime con il simulatore di carico utente riesce a gestire 16.000 operazioni al secondo quindi è un'applicazione che sulla carta è perfetta nella maggior parte dei casi non si riescono ad ottenere performance così elevate il tool che sfruttiamo per far vedere per dimostrare la metodologia causa engineering è l'ITMUS come ha detto Luigi questa è la dashboard di accesso anche in questo caso è stato seguito l'approccio multicloud infatti se vado nella parte causa agents abbiamo due differenti agenti ovvero uno è il self agent sarebbe il cluster resilient mentre weak sarebbe il cluster definito come weak quindi abbiamo da un'unica interfaccia abbiamo accesso ad entrambi i cluster e possiamo iniettare esperimenti su entrambi i cluster anche contemporaneamente schedularli abbiamo accesso a varie funzionalità più nello specifico la parte interessante di l'ITMUS abbiamo studiato anche altri tool come aveva detto Luigi abbiamo anche per esempio usato Gremlin per un approccio più magari più spostato verso Docker verso container Docker senza il virtualizzatore di Kubernetes però abbiamo optato per l'ITMUS per la nostra demo la parte interessante sono i workflow come vedete ne abbiamo già definiti due ne abbiamo lanciati due esperimenti o meglio set di esperimenti questa mattina ma vorremmo in realtà farvi vedere proprio il processo di schedulazione di un workflow quindi vado su schedule workflow scegliamo il cluster su cui vogliamo iniettare il nostro set di esperimenti in questo caso andiamo sul self agent che sarebbe la versione resilient abbiamo varie possibilità di schedulazione nel nostro caso useremo uno YAML definito da noi che ora vado a caricare possiamo dargli un nome e qua comincia la parte interessante perché come vedete viene automaticamente generato a runtime un grafo che mostra la sequenza di esperimenti che verranno effettuati su questo specific workflow quindi ovviamente viene in primo luogo installato l'esperimento e poi vengono fatti in parallelo tre esperimenti node cpu.org pod cpu.org e pod delete ovvero vengono quindi viene fatto un attacco a livello di nodo quindi viene stressato direttamente la cpu di uno dei nodi poi viene fatto un attacco a livello di pod dove viene attaccato invece un singolo pod e viene un altro pod completamente eliminato e alla fine si riporta l'applicazione allo stato iniziale questo è uno dei passi fondamentali per poter applicare questa metodologia in produzione visto che lo scopo è applicarla in produzione non possiamo iniettare un errore dopo non riportare il tutto a uno stato funzionante possiamo cambiare volendo la sequenza degli esperimenti cambiandone l'ordine magari oppure mettendoli da parallelo in serie o qualunque altro caso qualunque altra cosa oppure possiamo eliminarli l'altro elemento importante è lo score questo perché in un'ottica di prodotto in un'ottica di produzione appunto bisogna definire per ogni ogni caso è diverso in ogni scenario bisogna definire i KPI ovviamente magari ci sono anche dei veri e propri standard che l'applicazione deve raggiungere immagino in un'ottica di una banca delle esigenze ben diverse da qualche altro tipo di prodotto e quindi è possibile assegnare ad ogni esperimento un peso che impatterà sul risultato sullo score di resilienza che si avrà alla fine del set di esperimenti ma in questo caso noi lo lasciamo tutta 10 perché definiamo come peso lo stesso per tutti gli esperimenti però è possibile modificare questo il peso viene calcolato in base ai litmus probe di cui parlava prima Luigi che sono vere e proprie prove che vengono fatte prima dopo e durante l'esperimento per controllare che lo stato sia quello atteso e quindi assegnare uno score di conseguenza scelgo di schedularlo ora anziché farlo in maniera ricorrente per ovvi motivi aspettiamo che finisca e deployamo il nostro workflow contemporaneamente schedulo anche quello sul nostro agent week vado un po' più veloce e come possiamo vedere se andiamo in litmus workflows ci sono due esperimenti in running e noi possiamo vedere in tempo in real time possiamo vedere lo stato quello che sta effettuando in quel momento man mano come continuerà ora mentre loro continuano vi facciamo vedere il risultato di quelli di stamattina per concessioni di tempo questo è la dashboard di cui vi ho parlato prima qua ora vado a selezionare lo span di tempo in cui abbiamo runnato l'esperimento stamattina e la stessa cosa la faccio sull'altra dashboard il tempo rosso questo overlay rosso è lo span di tempo in cui l'esperimento è stato effettivamente in running quindi qua è il momento in cui l'esperimento ha cominciato ad agire e qua è quando ha smesso di agire questo è comodo per vedere anche graficamente cosa ha causato ogni set di esperimenti noi abbiamo definito una metodologia di approccio alla disciplina del caso engineering e abbiamo sfruttato questa metodologia per dimostrare come nel caso per mettere in evidenza diciamo due punti diversi sia nel caso del cluster weak e in quello del cluster resilient come potete vedere nel caso del cluster weak appena partono gli esperimenti le performance di tutto il cluster in questo caso proprio dei nodi della CPU le CPU calano a picco e anche la CPU dai pod questo perché come possiamo vedere dai microservizi essenzialmente tutti i microservizi smettono di rispondere e la frontend da che era a 17.000 operazioni al secondo passa a zero questo è per dimostrare come se non vengono perché come abbiamo detto nel cluster weak non vengono seguite le best practice di offerte da da Kubernetes in questo caso quindi come autoscaling limiti di risorse se c'è un errore crolla tutto e questo non è perché in questo caso avete messo è singola istanza senza replicazione quindi in questo caso è single pod ovviamente si rompe uno dei microservizi crolla cascata tutto questo è per dimostrare come ed è spesso così abbiamo visto anche noi come aziende di consulenza spesso i clienti non applicano le best practice offerte dai dai provider questo quindi è per dimostrare che non basta il cloud da solo come si può rompere un'applicazione anche con degli esperimenti molto banali perché questo era ancora meno impattante rispetto alla versione resilient però se andiamo nella versione resilient appunto Davide da qui in realtà puoi anche capire qual è il servizio che si è rotto cioè che ha causato la catena delle rotture in pratica perché infatti mentre molti microservizi continuano a rispondere sebbene ad un ritmo molto basso qua andando a targetizzare ogni volta un microservizio diverso siamo riusciti a capire che l'elemento critico all'interno dell'infrastruttura applicativa è il catalogo se crolla il catalogo che non risponde più crolla tutto e il frontend stesso non riesce più a rispondere a nessuna richiesta quindi abbiamo definito già una cosa importante che sarebbe stato difficile identificare con i tool classici di performance test ovvero il componente critico all'interno dell'infrastruttura applicativa se andiamo invece sul cluster resilient sempre nello stesso span di tempo possiamo vedere una situazione ben diversa sia in termini di performance che in termini proprio di microservizi infatti come potete vedere applicando tutte le best practices di kubernetes applicando tutte le best practices di gki ostando tutti gli applicativi su cloud provider insomma facendo tutto il possibile l'applicazione risponde ok c'è un pochino di spike nella latenza di alcuni microservizi c'è un po' di calo di performance nei qps in alcuni dei microservizi però l'applicazione regge botta e riesce a continuare a rispondere quindi anche in questo caso sulla carta basta applicare questo basta applicare quello che il cloud provider offre e tutte le best practices dicono e si è insomma si è una botta di ferro e invece tramite il caso engineering abbiamo siamo riusciti a scoprire un flow applicativo all'interno proprio dell'infrastruttura applicativa non dell'infrastruttura su cui è ostata l'applicazione e l'abbiamo siamo riusciti ad identificarlo seguendo la nostra metodologia ma soprattutto grazie allo stack di monitoraggio che abbiamo tirato su per questo è davvero uno degli elementi critici avere un sistema di monitoraggio stabile solido e reattivo infatti se andiamo qui possiamo vedere che anche dopo la fine dell'esperimento c'è un pod che continua a salire continua a salire e rimane il consumo di cpu di questo pod rimane alto se andiamo a vedere qual è è il catalogo questo vuol dire che all'interno dell'applicazione abbiamo definito siamo riusciti a scoprire un flow applicativo non infrastrutturale quindi un errore proprio di sviluppo all'interno dell'applicazione che se no non saremmo mai riusciti a scoprire e questo errore qua immaginatevi ad esempio un e-commerce nei Black Friday arriva un carico inaspettato di utenti il carico magari scende però uno dei microservizi continua a consumare risorse in maniera esosa e questo può portare anche in ogni caso a un aumento dei costi perché sono risorse non effettivamente utilizzate ma anche eventualmente data breach oppure comunque altri tipi di errori nel frattempo possiamo vedere qua che il workflow ha finito entrambi hanno finito e si è ripetuto lo stesso scenario di prima ovvero quello sul sul cluster resilient al risultato di succeeded quindi lui dice tutto a posto mentre su quello week ci aspettiamo un fallimento perché non ha retto botta al microservizio quindi è giusto che lo score di resilienza sia negativo il tipo di flow applicativo che abbiamo trovato non viene visualizzato dalla dashboard perché tutti gli esperimenti sono passati però è stato trovato appunto un flow applicativo conseguente successivo alla fine degli esperimenti e quindi non è possibile trovare tramite questi questi probe ma invece è possibile trovare con uno stack di monitoraggio fatto bene se vado negli ultimi 15 minuti potete vedere che si è ripetuto lo stesso scenario anche nella nell'ultimo nell'ultimo set di esperimenti anche qui se ridefinisco gli ultimi 15 minuti vado sul week possiamo vedere che di nuovo è crollato tutto in realtà credo che sia tutto è interessante diciamo questa cosa che comunque consente di trovare problemi che tu potresti non trovare mai o comunque quando li trovi è troppo tardi come è successo in tante situazioni che poi sono state documentate con la tecnica del post è il muto Matteo sì sì no dicevo è possibile documentare con situazioni poi in caso di post mortem quindi quando è successo il il disastro il servizio è andato giù e tutto quanto quindi soldi persi e quant'altro infatti all'interno infatti all'interno della nostra metodologia uno degli step è proprio l'analisi dei post mortem famosi perché abbiamo definito una metodologia iterativa in cui lo sviluppo degli esperimenti viene affrontato in maniera appunto ricorsiva ovvero si riprendono sempre gli stessi esperimenti cercando di spostare un po' il focus di ingrandirli cercare appunto di analizzare i post mortem di tecnologie famose per vedere cosa è successo e fare degli esperimenti basati su quello tra tutto il resto questo fa capire anche che l'adozione del cloud deve essere consapevole e comporta una serie di pericoli che spesso molte aziende tendono a sottovalutare e quindi oltre alla consapevolezza è il caso di dotarsi quando possibile gli strumenti standard che possano essere poi facilmente utilizzati facilmente stesi o facilmente sostituiti in caso escano dei nuovi standard o degli nuovi strumenti quindi non legarsi troppo a una specifica tecnologia pensando che quella risolva tutto e questo tipo di approccio che abbiamo noi un po' in tutte le le insights tecnologici che facciamo può aiutare in questo senso ringrazio anche Davide e Luigi sono stati bravissimi loro a differenza mia e Matteo sono molto giovani però nonostante questo sono stati veramente molto competenti e hanno tirato su questa demo in poco tempo ma con una estrema competenza e precisione quindi li ringrazio ottimo io ho fatto la mia comparsa di nuovo sono stata tipo tutto il tempo così perché per me un po' è super affascinante un po' è ancora fantascienza perché sono una profana del settore però mi super intriga quindi io stavo notando che non sono arrivata nel frattempo dai nostri spettatori domande nel Q&A tra l'altro siete stati precisissimi perché abbiamo ottenuto la nostra ora ricordo che se qualcuno si stesse in questo momento pentendo di non aver fatto delle domande per approfondire ricordo anche chi ci sta seguendo su Zoom e quindi è dentro il webinar con noi che troverà la registrazione di questo intervento su LinkedIn sia sulle nostre pagine come Lavoro Digitale Italia e Startup sia sulle pagine immagino di NTT Data quindi potete commentare lì e poi ottenere così risposta mentre io ringrazio Matteo, Luigi Marco e Davide per averci fatto compagnia in modo così interessante per quest'ora ringrazio tutti voi che siete stati connessi non li avete lasciati ecco un attimo auguro a tutti una buona serata e una buona cena visto che tra un po' si avvicina allora nel frattempo Gianluca vi saluta in chat e vi ringrazia e vi dice che è stata una sessione molto interessante mi faceva piacere riportarvelo quindi di nuovo grazie a tutti e buona serata grazie a te grazie ciao ciao Ciao, ciao.